Baruffi Cars, appoggi i ridenti. Avvicinarsi al mondo dell'arrampicata in totale sicurezza si può. Riduci dall'ottimo riscontro ottenuto lo scorso anno con ben 200 adesioni, il Collegio Guido Alpine Lombardia, unitamente alla Regione, lancia la giornata dedicata alle lezioni gratuite di scalata in 5 diverse località della Lombardia, in programma per sabato 30 settembre. Per tutto il giorno, le Guido Alpine offriranno lezioni gratuite con lo scopo di diffondere un corretto approccio all'arrampicata in Falesia utile sia per prevenire gli incidenti in montagna, sia per fruire al meglio nel patrimonio comune delle Rocce Lombarde. Come dicevamo, 5 luoghi che saranno interessati dal progetto, fra i quali la frazione di Sirta nel comune di Forcola, oltre ai punti di Galbiate e Introbio per quanto riguarda la provincia di Lecco e Cividate Camuno e Corna Rossa di Lantana per Brescia e Bergamo. Gli argomenti che saranno trattati nelle lezioni riguarderanno sia la tecnica dell'arrampicata, schemi motori fondamentali dell'arrampicata e progressioni, che quella di sicurezza, tra cui l'uso corretto del materiale, nodi e tecniche di assicurazione. Il messaggio proposto è chiaro. Anche in un ambiente ben attrezzato come una Falesia, comprese quelle restaurate in modo impeccabile, gli utilizzatori sono responsabili della propria protezione. Si è infatti in contatto con un ambiente naturale, soggetto ad un inevitabile processo di modificazione nel corso del tempo, ha spiegato Fabrizio Pina, presidente delle guide alpine lombardi, e sarebbe un grosso errore assimilare questi siti a impianti sportivi. Le lezioni, oltre ad essere gratuite, sono aperte a tutti, principianti e non. Possono aderire anche i minori al di sopra di 10 anni, purché accompagnati da un genitore o da un tutore legale. Tutto il materiale necessario per la scalata, come scarpette in brago e casco, potrà essere fornito dalle guide alpine.